Tentata rapina ieri intorno alle 18 alla stazione di servizio Tè sulla provinciale 231 a Bitonto dopo l'incrocio per Palombaio in direzione di Modugno. Tre rapinatori, armati e incappucciati, sono arrivati a piedi dalle campagne. Mentre erano intenti a tranciare la rete di recinzione alle spalle della stazione per aprirsi un varco di fuga, sono stati notati dal titolare che ha allertato l'istituto di vigilanza IBRI e le forze dell'ordine. In pochi minuti i vigilantes sono arrivati sul posto. Uno di loro ha esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. Subito dopo sono arrivati gli uomini del commissariato di polizia di Bitonto, ma i rapinatori si erano già dileguati. Per identificarli la polizia ha acquisito le registrazioni delle telecamere di video sorveglianza della stazione di servizio. Quello di ieri, l'unico non andato a segno, è il quarto colpo in una settimana a Bitonto, compiuto secondo lo stesso copione. Il sospetto è che ad agire sia stata la stessa banda. Intanto le forze dell'ordine hanno serrato i controlli, soprattutto intorno agli obiettivi sensibili, distributori di benzina e aree di servizio alle porte di Bitonto, raggiungibili a piedi attraverso le campagne.